Attesa spasmodica, concentrazione e tanta adrenalina. È l'ultimo atto del moto estate in quel di Cervesina. Weekend di passione e con tanta voglia di mettersi in mostra dopo un anno difficile che non ha impedito ai piloti di coronare il proprio sogno, correre e dare gas. Liberini Bianucci nella 600 Race Attack, Torchio Palladino nella 1000, Lusso Vitali nella 300 Super Sport. Saranno soltanto alcuni dei duelli che infiammeranno quest'ultima tappa per la vittoria dei rispettivi campionati. Kevin Manfredi e maestri Y-Car di lusso. Il circuito di Cervesina farà da cornice ad un ultimo atto imperdibile in attesa di un 2021 spumeggiante. E allora ragazzi, i nostri piloti sono pronti ad accendere i motori, spegnere i semafori e dare gas. Il moto estate è qui! Cervesina, terzo round! E ultimo per quanto riguarda il trofeo in moto estate, 2,8 km per la 300 Super Sport, per quelli che saranno 11 giri infuocati. Qui al mio fianco, Super Andrea Tomio. Ciao ragazzi! Andiamo un po' a definire quella che è la griglia di partenza, Andrea, con Lorenzini in pole position, 1,26822. Alle spalle Super Nicolusso, 1,2722. L'abbiamo visto veramente performante, ma soprattutto Nicolusso si giocherà quella che è la vittoria finale con quello che è il terzo incomodo, poi terzo incomodo non si dice di certo, per quanto riguarda ad esempio Andrea Vitali, perché Andrea Vitali parte dalla terza piazza. Ricordiamo che questi due se le sono date di santa ragione, se le daranno di santa ragione anche qui. In quel di Cervesina, quarto Conte, attenzione anche a lui, 1,27355. Agazzi e Iotti a chiudere quella che è la seconda fila. Terza fila che si apre con Sala, con numero 114, in 1,29043. Trombin, 1,29065, venti millesimi. Terza fila che si chiude con Cristini, 1,29240. Per Cristini, Matteo, 0 punti in quel di Varano nel primo weekend, 3 nel secondo. Forse un pronto riscatto in questo weekend, io penso proprio di sì. Decima posizione per Lisci, Nicola Lisci, 10 punti Varano nel primo weekend, 8 nel secondo. Atteso ad un riscatto, comunque a cercare di dare meglio di sé in quella che è questa gara. Poi abbiamo la ragazza, Francesca Cagna, 11esima posizione, 12esimo Capocasale. Quinta fila con Corossaro, 1,30525. Carpinone, 1,31082. Riva in quindicesima posizione, 1,31489. Sesta e ultima fila con Castagna, 1,32559. Boffi, 1,34469. E Alessandro Riva, 1,35971. Andre, ci aspettiamo una gara infuocata con le quattro Kawasaki davanti. Assolutamente, come sempre. Questi sono pronti a battagliare per davvero. Sì, sì, sì. E allora, che altro fare se non linea a Nilo per le classiche interviste pre-gara? Noi ci vediamo qui per la gara tutta ad un fiato della 300 Supersport. Nei box con Nico Lusso. Salgono le aspettative per una gara all'asciutto. Ma sappiamo che tu parti in seconda posizione e crediamo ci sia una gran battaglia oggi, giusto? Sì, corretto. Oggi parto secondo, ma i primi tre, ovvero io, Lorenzini e Vitali, sono gli stessi che si giocano il titolo. Quindi sarà una gara abbastanza tosta. Abbiamo più o meno tutti i pari possibilità, quindi chi sta davanti vince. E allora noi ci aspettiamo un grandissimo spettacolo. Speriamo. Ma tu se dovesse piovere sei comunque pronto a cambiare setup? Sì, stamattina ho fatto due giri in condizioni mezzo e mezzo. Ho fatto due giri con il Reino, ho fatto due giri con un set un po' più morbido per vedere come poteva andare. Quindi partiamo da una discreta base, vediamo come va. Speriamo non è asciutto comunque. Ci vediamo a fine gara, grazie. Dopo, ciao. Siamo con Andrea Vitali, secondo in classifica a tre punti. Vogliamo chiedergli quanto e se gli piace questo circuito di Cervesino. Beh, è sicuramente un bel tracciato. Un po' difficile da capire, soprattutto per i molti avvallamenti, le buche che ci sono. Però a me sinceramente piace. Abbiamo anche trovato abbastanza una quadra nella pista. La moto è a posto e va. Abbiamo cambiato le gomme l'ultima volta che siamo venuti. Avevamo le gomme un po' usate e non avevamo trovato bene la quadra. Ma stavolta ci siamo riusciti e quindi siamo felici, sta andando bene. Siamo nei box con Matteo Cristini. Noi sappiamo che non è perfettamente soddisfatto di questa stagione. Come hai intenzione di far fronte ai problemi che hai avuto finora? Perché purtroppo è evidente che ce ne siano stati. Vabbè, allora, tutti siamo qua per divertirci. E mi sto divertendo tantissimo. È il primo anno di gare, come ho già detto. E sto già andando più che bene. Oggi abbiamo iniziato bene. Abbiamo un po' di problemi sul grip, sulla gomma posteriore. Ma speriamo di averli risolti. Abbiamo la qualifica alle tre. Speriamo di posizionarci bene per domani la gara. E di farla bene. E di divertirsi. È bello vedere tanto entusiasmo, indipendentemente dal risultato. Sì, sì. Ora, quest'anno è tutto un test. Per poi vedere l'anno prossimo se si può lanciarci bene. Allora, in Q1 stavo andando anche abbastanza forte il primo giro. Solo che quando ho avuto il traino, ho avuto un problema. La pedana si è svittata, quella delle marce. Allora sono dovuto uscire. Ma poteva andare meglio. Ma è andata così. Parto decimo e sono contento. Speriamo di far bene in gara. Ora abbiamo fatto la Q2. Ma sono entrato giusto per vedere un attimo le condizioni della pista. Era un po' umidicia. Ma si può ancora lavorare. Devo sistemare qualcosina all'anteriore. E siamo a posto. Niente, speriamo di fare una bella gara. E ringrazio tutti coloro che anche con una piccola mano hanno reso possibile questo weekend ed essere qua. Ciao a tutti. Benvenuti in quel di Cervesina. Qui a mio fianco è Andrea Tomio. Ciao ragazzi. Andrea, è una sfida all'interno della quale ci sono quattro i Kawasaki davanti. Una diversa dall'altra ci daranno anche del final torcione per riconoscerli. Lorenzini, Lusso, Vitali, Conte. Con Lusso e Vitali pronti a battagliare per la vittoria finale. Siamo pronti e carichi per commentare questa gara? Sì, sì. Come sempre. Ti vedo concentratissimo. Siamo concentrati anche perché diventa difficoltoso riconoscerli. Soprattutto per un neofita come me. Ma sono sicuro che daranno un bello spettacolo. E sarà veramente bellissimo poter vedere questi ragazzi sfrecciare. cercando anche di arrivare a fare quattro calcoli che a questo punto io mi sono già portato la calcolatrice alla mano. Carmi Andrea. Bandiera verde intanto. Non posso sbagliare. Bandiera verde. Si stanno per accendere i semafori. Tutto pronto. Si sta per partire. Via. Lorenzini impennando. Vediamo qual è la partenza. Se buona. Rischiano una mezza collisione di Lorenzini e Nicolusso. Mi sembra col cinque. Sì è Nicolusso. Che però viene passato da due Kawasaki. Sono tutte quattro le Kawasaki davanti. Intanto vediamo come escono fuori. Forse c'è Conte davanti. No è Vitali. In questo caso che si mette davanti con il numero 11. Sì è Vitali. Lusso. Mentre scorrono dietro tutte le moto. Eccolo qua Nicolusso. Che prova a lanciare l'insegnamento. Vi ricordo. Tassi di Calamano. Che Lusso aveva 45. 61 punti. Dall'altra parte 45. 58 Vitali. Uuuuh. Che succede Andre? Bruttissima caduta. Andiamo a rivedere il replay. A questo punto penso anche a una bandiera rossa. Forse è scivolata. E probabilmente proprio Federica Cagna. Che partiva dall'undicesima posizione. No? Sì. Penso che sia Federica Cagna. Bandiera rossa evidentemente. Tra un po' probabilmente sventolerà. Anche perché. Penso. Speriamo che non si siano fatti male. Francesca. Francesca Cagna. Perdona. Mi bravo. Stavo leggendo un altro nome. Soprattutto speriamo che non si sia fatta nulla di male. Nulla di che. Quindi bandiera rossa. Che probabilmente. È sintomo di fermare la gara. In attesa di ripartenza. Vedo che stanno andando più piano. Ti chiedo se i commissari sventrano. Però non vedo bandiera rossa. Lo ho visto in precedenza. Al tazio non ci sono le bandiere. Ma ci sono dei segnali. Ci sono anche gli sbandieratori. Ma ci sono dei segnali. Il punto è che se non riescono a tagliare le moto. Prima dell'arrivo. Mamma mia Nicoluzzo. Intanto esce fuori. Eccola lì. Eccola lì. Bandiera rossa. Si alzano. Infatti ragazzi. Vedi qualche cenno. Era chiaro ed evidente. Che non si potesse passare. Lì dove c'era stata la collisione. C'è stato probabilmente un errore che è stato fatto. Per quanto riguarda la partenza. Come sono andati poi. Di incocciarsi. I due piloti. Io ripeto. Andrea speriamo. Non ci sia nulla di che. Nulla di male. A questo punto. Sicuramente con la bandiera rossa. Ci sarà un restart. Chiudiamo il collegamento. Chiudiamo il collegamento. E ci rivediamo. Evidentemente tra poco. Per la ripartenza della gara. Rieccoci. Nastri di partenza. Si riparte con le posizioni. Che si erano ottenute. Dalle quali si partiva. Gara 1. Lorenzini. Lusso. Vitali. Conte. Agazzi. Iotti. Bandiera rossa. Possiamo intanto aggiornarvi. Che per la ragazza. Non dovrebbero esserci stati. Chissà quale tipologia di problemi. Però evidentemente. Bandiera rossa. Andre. Giustamente. A testimonianza. Che non si poteva andare avanti. No. Perché fino a che non sgomberano. Esatto. Con tutta la situazione. Eccoci qui. Bandiera verde. Che è stata sollevata. Via. Si riparte. Vi ricordo sempre. Vitali. Lusso. A darsi battaglia. Per quella che è. La prima posizione. Del campionato finale. Lorenzini. Parte largo. Prova subito ad entrare. E' entrato forte. Ci riesce. E' entrato forte. La linea è un po' più esterna. Però l'ha agevolato. Guarda come fa zigzagga. Quando fa si soppassare. Mamma mia. Infatti sembra la fase di partenza. Quando ci sono sai. Le safety car. Anche nelle macchine. Che si zigzagga. Per non dare punti di riferimento. Intanto. Lusso. Prova a scavalcare. Anche lui. Vitali a sua volta. Con Lorenzini e Conte. Mi sembra che si stanno tornando. Due copiate. Vitali. Dentro su Nicolusso. Grande sorpasso. Probabilmente da parte di Vitali. Sì. Vediamo se riesce a concretizzarlo. Ancora con Lusso. Alle spalle. Che prova a passarlo. Non è successo nulla dietro. Questo è l'importante. Andiamo anche. Live. Con Cristini. Che partiva dalla nona posizione. Indischiato. In quella che è una sfida. Forse va dentro Cristini. Mamma mia. Era in sella con lui. Era in sella con lui. Mamma mia ragazzi. Che rischio. Cuore in gola. Mentre le minacce. Di una pioggia. Si fanno sempre più forti. Speriamo che non succeda. Perché altrimenti. Sì si vede uno spettacolo. Ma possono vedersi. Delle cadute rovinose. Quello che noi non vogliamo. Vedere. Dai Steti. Mentre davanti. Lorenzini. E Conte. Ballano. In due danze. Dietro. Lusso e Vitali. Iniziano a studiarsi. Anche perché. Poi sono loro due. Quelli che daranno. Che si daranno. Di più da torcere. 11 giri. Ti chiedo Andre. C'è una diminuzione. Probabilmente anche dei giri. Vista la caduta. Direi di sì. Perché sicuramente. Sottraggono. Ecco lì. Infatti sono otto i giri. Andre. Mentre guardalo lì. Prova ad entrare. Vitali su Conte. Non ci riesce. Mentre Lusso. Inizia a farsi vedere alle spalle. Potrebbe essere una gara. A quattro. Lì davanti. Sì. Passa il passo. Conte su Lorenzini. Andre no. Ma chi è? Non è Conte. Sì sì. È Conte. Forse lo passa. Forse non lo ripassa Lorenzini. Tiene la posizione. Mamma mia. Forse anche a 5. Forse anche a 5. Tu dici che gli occhi alle spalle. Può dare il suo da fare? Eh potrebbe arrivare. Non mi sembra lontano. Non è lontano. Ti chiedo non un pronostico. Perché non è giusto fare dei pronosti. Ci me l'hai insegnato tu. Nelle vecchie gare. Quanto possono dare queste quattro moto? Quanto possono dare? Possono dare. Da buttista della performanza. Eh beh le Kawasaki qua sembrano molto avvantaggiate. Sicuramente. Rispetto alle Yamaha. E sono tutte e quattro di davanti. Perché ricordiamo che la Kawasaki è 400. Eccoci qua. Per esempio. La Yamaha è 300. È vero che la Kawasaki ha dei limiti. Ha dei... Quanto meno io ti parlo di regolamento dei mondiali. Deve rispettare un certo tipo di paletti. Però comunque è 400. Non è 300. Conte intanto Andre. Mi hai fatto benissimo da me queste due azioni. Ma mi sembra che quei quattro stanno facendo gara a sé. E Nicolusso ha scavalcato Vitali. Se lo trova ancora davanti. Mentre arriviamo su quello che è il rettilineo fondamentale. Che sanagisce la fine del secondo giro. L'inizio del terzo giro. Vediamo se Conte passa a Lorenzini. Bellissimo. Guarda come si prendono la scia. Questo on board. Scie su scie. Vediamo se l'ha passato. Sì. Conte scavalcato da Lorenzini. Ma scavalcato anche da Vitali. Che in questo momento è secondo. Con un quarto lusso. Lusso non può stare lì ad aspettare. A guardare. Deve sicuramente dare il ritiro da torcere. Battagliare. Mamma mia. Questi mi fanno perdere la voce. Io me lo sento. Mi fanno perdere la voce. Manco tu mi hai fatto perdere la voce. È vero. Confermo. Però è bellissimo vedere guidare. Perché davvero ci mettono del loro tanto. Oh che rischio. Un rischio clamoroso. Mentre sta prendendo un pochino di margini vitali. Che è davanti a tutti. Dalla terza piazza. Intanto andiamo con Niccolò Lisci. Ottavo partiva dalla sesta. Anzi no scusami. No partiva dalla diecima piazza Lisci. Si trova ottavo. Scavalcato da Pugasole. No. Largo Lisci. Vediamo se riesce a rientrare. Mamma mia come era vicino al muro. Sì sì. Rientra per fortuna. Speriamo che non sia finito. Qualche detrito nella moto. Sennò vuol dire fine della gara. Che peccato per Lisci. Che stava veramente battagliando. Per l'ottava posizione. Importantissima. Fondamentale. Speriamo di riuscire adesso a capire. Dove. Da dove ripartirà Lisci. Mentre che imbattono Capo Casale. Aguzzi e Cristini a questo punto. Anche per quella che è la battaglia per la sesta. La sesta. L'ottava posizione. Che diventa importante. Ma sono quei tre. Quei quattro davanti. Che stanno dando del tiro da torcere. Allora. Lusso. Vediamo. Lusso che era quarto prima. Adesso si trova secondo. Adesso si trova primo. È il bello di questa categoria. Lusso alle spalle Vitali. Mi sembra che ha scavalcato Lorenzini. Una confusione totale. Non vi lascio immaginare. Quando ero lì in cadena di commento. Non ci capiva una mazza. Te lo posso giurare. Perché qua. Quanto meno vedi quasi. Quasi tutto. Almeno vedo i numeri. E allora vedo Lusso davanti. Con alle spalle Vitali. Si è riformata la coppietta. Con Conte Lorenzini alle spalle. Lusso davanti. Adesso vediamo. Perché. Se noi abbiamo. Non boh. Live. Da parte di Lusso. Che abbiamo. Se qualcuno prova a scavalcarlo da dietro. Mamma mia. Quella curva. Mi fa sempre una paura Andre. Ho visto prima Revelli. Che scodava come un pazzo. Questi invece vanno Lusso. Perché? Eh beh. Meno potenza. Revelli. Con una mille. Quando riesci. Che gli dai la manata di gas. Scarica a terra. 200 cavalli. Insomma. Lusso. Lusso su Carpinone Andre. Undicesimo. È rientrato in dodicesima posizione. Prova una sorta di rimonta. Lusso. Ha scavalcato Carpinone. In questo caso. Buonissimo. Il suo passo. Secco e naturale. Mentre scodava. Ancora 10. Torniamo. Lì con quei 4 davanti. 5. 11. 10. 155. Lusso. Vitali. Conte Lorenzini. Stanno tenendo quella posizione. No. Perché Lusso ha scavalcato Vitali. Rispetto al raffronto. Che vedete. Da parte della nostra cortesia regia. Alle spalle. Poi lì al raffronto. Rispetto al giro precedente. Intanto vediamo come escono. Perché stanno arrivando. Sul rettilino. Mi sembra che sia Lusso. Vitali. Conte Lorenzini. Vediamo anche. Qui. Forse. E forse sai che è passato. Forse sai che è passato Vitali di nuovo. Vitali di nuovo davanti a Lusso. L'11 davanti al 5. Sono sicuro. Perché ho visto proprio il sorpasso. Sì è così. Vediamo se contro risponde. Entrando Lusso. Sì. Però attenzione. Perché Vitali può essere scavalcato anche alle spalle. Dall'ingresso da parte di Conte fortissimo. No. Respinge. Ci riprova. Ma ci riprova. Forse ci riesce. No. Si deve accodare. Mamma mia ragazzi. Sto perdendo la voce Andre. Tra un po' ci fermiamo. Diamo una pausa ai box. Chiamiamo qualcun altro a commentare qua con te. Conte Lorenzini. Terzo e quarto. Ti chiedo. Però mi sembra che Lusso e Vitali adesso provino a dare una stoccata. Eh beh. Devono farlo. Sono nella condizione che adesso o si fanno vedere un po' anche loro. Oppure diventa un po' difficile. Fermo e considerando. E qui classifica la mano. Ho sempre bisogno di riportarla. Che Lusso parte da 61 punti. Partiva perché siamo live. 58 Vitali. Quindi ad ora. Non diciamo nulla. Si. Perché non bisogna. Ma in questo momento è Lusso che vince la classifica di categoria. Mentre riguardiamo la partenza. Lusso non è partito benissimo. Partiva dalla seconda piazza e si trova terzo. Scavalcato da Conte e da Lorenzini. Vitali forse è partito ancora peggio però forse. Eh si. Perché dalla terza si va a trovare quarto. E' stato Conte che ha avuto un buonissimo approccio. Buonissimo feeling. Lusso. Bellissima partenza. Non di scena. È partito bene. Si. Dalla decima piazza si è trovato sesto. Con Yotti che scodava. E qui il sesto perché è quello Yotti che scoda. E Lorenzini che si ha. E Vitali che si accoda in quarta posizione. Buona la partenza. Poi ha avuto quel problema. Eh. Si. Cristini vediamo. Ha provato ad andare sull'esterno. Ti chiedo anche tu. Che tipo di partenza prevedice. Si cerca di andare sempre sull'esterno o sull'interno? No. Al contrario di dove è la curva. Tipo qua c'è la prima curva a destra. Deve dovresti tecnicamente buttarti a sinistra. Perché così puoi riesci a entrare dentro meglio. E se hai bisogno di spazio per poter riaprire il gas. In uscita riesci a... È vero anche che tutti vogliono andare là. Mi stai insegnando tante cose. È vero. È una cosa non bella. Non so se non si scrive anche tu. No non mi scrivo. Stai tranquillo. Ma mi piace commentarle qua con te. Punti e basta. Vitali. Andiamo a vedere qualche slow motion. Andre. Mi sai dire qualcosa di queste moto? Sì. Sono come ti dicevo moto. È una categoria. Una nuova. Ma è già da qualche anno che c'è. La 300. Anche se non ho capito perché la chiamano 300. Come ti dicevo c'è. 300 super sport. C'è. Non di super sport. Perché sono ci arrabbiati. Ah sì. Nella torre di me. Comunque sì. La chiamano 300. Però c'è dentro un po' tutte le scilindrate. Eccoli qua. E l'avevi data. Sono 4 muschettieri. Adesso si sono ancora di più compattati. E' logico che poi se uno davanti non è di più per andare. E non è di più per andare. Perché hanno la stessa velocità. A questo punto diventa anche un gioco di scia. Direi proprio di sì. Soprattutto qua si sente molto la scia. Mamma come si accodano. Mamma come si accodano. Lusso, Vitali. Conte Lorenzini. Forse Vitali scavalca Lusso. Sì. Sì. Mi sembra di sì. Anzi era Lusso che ha scavalcato Vitali. Perché Vitali lo va contro scavalcato sul rettilineo. A questo punto è Nico Lusso davanti. Vitali alle spalle. Conte Lorenzini. Sempre loro quattro. Solo loro quattro. Nient'altro che loro quattro. Tu dimmi se io potevo riconoscere questi quattro benedetti bravissimi chiglioli. Lì davanti. Che nella concitazione anche del racconto. Tu dimmi. Dimmi se potevo riconoscere. Sì effettivamente diventa un po' difficile. Anche le colorazioni sono tutte molto molto fine. Adesso qua Lorenzini è proprio minacciosissimo alle spalle di Conte. Ti chiedo mi dicevi. Indicami al di là di quella curva di cui parlavi prima. Quale può essere un altro spazio e punto dove si possono passare bene. Sì io penso in uscita dal rettilineo. Dal tornante di ciclo finale. In uscita dal rettilineo se esci bene lì puoi tirare la frenata. Ah nella prima curva. Sennò la curva quella iniziale del rettilineo iniziale. Mentre qua siamo con live con lice che purtroppo ha avuto quel problema. Ma stava facendo una grande gara. Io ho visto. In uscita dal rettilineo se hai potenza o se riesci a sfruttare la scia. Però non è tanto lo spazio che hai prima della fine del giro. Che rischio. E qui è andato largo. Il numero 5 Nicolusso. Terzo dalla più posizione. È logico che qui se sbagli una curva sei fregato. Ti passano in tre. Qui l'hanno passato in due. Lusso si trova a dover fare i conti con una rimonta di nuovo. Importante. Lo passa anche Lorenzini. Eh certo. Lì se fai un errore sei fregato. Attenzione perché Lusso in questo caso. Conte davanti a tutti. Era terzo fino a tre curve fa. Fino a tre curve fa. Conte era terzo. Adesso si trova a prima. Anzi. È già già. Con il margine. E mette qualcosina. Tra sé. Vitali. Lorenzini. Lusso. Mamma com'è cambiata. La faccenda. Tutti indischiati. Conte sembrava quasi essere lì sul mio nelle spalle. Adesso ha deciso che vuole andarsene. E a questo punto mi chiedo. Ma Conte prova a tirare fine della gara e riesce ad andare. Non lo so. Me lo chiedo. Vitali mi sembra che si sia messo alle sue spalle. Alle trance. Di che? Sulla trance di Conte. Lusso. Passano Lorenzini. No mamma gli risponde. Anche perché Lusso ha capito. Adesso adesso adesso. Forse ci prova qua. E ci riesce. Lusso deve assolutamente. Vediamo se è stato largo Andrè. È un po' largo. Ma dovrebbe starci. Ci sta. Ci sta. Lusso passa Lorenzini. Ma deve andare subito a ricucire quel gap. Penso di un secondo. A occhio. Mi sembra sono scappati quei due. Vitali Conte. Adesso è difficile. E a questo punto è difficilissima. Mamma mia. Anche perché poi ha la fricola di andare a fricola. Esatto. E poi sbagliare l'errore. Puoi fare l'errore. Lorenzini a questo punto. Quarto. Si è dipanata la situazione. Quell'errore di Lusso è stato veramente emblematico. Mentre andiamo live con quello che adesso è il final lap. Ultimo giro Andrè. E adesso. Adesso diventa. Conte Vitali. Lusso Lorenzini. Ma sai che io non vedo dei margini per ricucire quel gap clamoroso. Non lo so. Poi magari sbagliano con i due davanti. E allora andiamo live a commentare tutta la gara. Perché ci prova ad uscire fortissimo Vitali. Non riesce ad entrare mai. Chi rientra nell'incrocio. Conte lo ripassa. Vitali alle spalle. Vediamo se esce forte. Se prova a ripassarlo. Forse ci riesce qua. Sì. Sì. Si è messo davanti penso Andrè. No no Conte. E Conte ancora. Vitali alle spalle. Con il numero 11. Il 10 è Conte. Lusso sta provando ad avvicinarsi in tutte le maniere. Ancora Vitali. Mamma mia che cara. Conte vuole vincere. Conte vuole vincere. Conte vuole vincere. Vitali. Io vi ripeto che gli basterebbe. Quella posizione. Ma non sta mollando niente. Forse lì lo prova a sorpassare Andrè. No. Non ci riesce. Non ci riesce. Lusso ci sta provando. Siamo live. Proprio con Lusso. Vediamo quello che riesce a confezionare. Nico Lusso deve in qualche maniera sperare. Avvicinarsi. pregare che Conte faccia un po' da tappo in queste ultime curve. Ma io non penso che ci sia un po' di spazio. È uscito fortissimo. Lì Vitali. Vediamo se prova a sorpassarlo. No. Non ci riesce. Ancora Conte davanti. Vitali alle spalle. È l'ultimo tornante. Ma dici che esce forte? Dici che riesce a uscirgli alle spalle? Forse sì. Forse no. È un no. Vince. Probabilmente Conte. Ma vedete la felicità di Vitali. Perché. Eh no. Ha vinto Vitali? Ma come ha fatto? No. Dubbio. Dubbio su chi abbia vinto. La cosa importante è che Lusso arriva terzo. Quarto Lorenzini. Quinto. Gliotti. Agazzi. Capo Casale. Cristini Trombin. Calcolatrice alla mano. Caro il mio. Andrea Tomio. Lusso scavalcato. Comunque. Lusso scavalcato. Perché aveva tre punti di margine su Vitali. Anche Vitali fosse arrivato secondo. Ne fa 20. Lusso 16. Più 4. Vitali. Vince la 300 Super Sport. La categoria. La gara. A questo punto ci rimane questo dubbio. Ma io penso che abbia vinto Conte perché è uscito fortissimo. Il raffrutto cronometrico ci dice Vitali. Cercheremo di capire. Andre. Bellissima gara. Bella. 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 La gara. Peccato per l'isci in precedenza. Bene. Anche Cristini che arriva ottavo. Vince Vitali. A questo punto linea Nilo. Questa volta davvero c'è il podio. C'è il podio per quanto riguarda la gara. E vi impaneremo questo dubbio amletico. Vitali Conte sicuramente terzo lusso. Ma ciò che è sicuro. Vitali vince il campionato di 300 Super Sport. A voi per i commenti finali. Contentissimo. La gara è andata molto bene. Siamo riusciti a partire bene. Anche se in mezzo alla gara c'era Nico che andava veramente forte. Però dopo parecchie scie e un po' di sportellate ci siamo riusciti. È andata bene così. Siamo riusciti a vincere questo campionato. Dopo tante insidie diciamo così. E dopo tante fatiche. Dopo tante fatiche soprattutto. Grande grazie di tutto. No mi sono stra divertito. L'ultima gara non poteva finire meglio. Ce le siamo date. Questa volta ce le siamo date. Ci hanno dato qualche spallata. Qualche entrata cattiva. Però mi sono stra divertito. Abbiamo finito ottavi penso. Contentissimo per essere il mio primo anno di gare. Cosa dire. Mi sono stra divertito. Grazie a tutti. Anche ai meccanici. Gli sponsor. È tutto e speriamo di fare anche l'anno prossimo. Grazie a te per lo spettacolo che ci dai. Grazie. Grazie a voi. Siamo al parco chiuso con Nico Lusso. A cui vogliamo far dire. Sembrava sinceramente. Sembrava leggermente risentito di qualcosa. Quando l'abbiamo incontrato. Adesso siamo riusciti a incontrarlo. E vediamo se vuole dirci qualcosa. In proposito a questa gara. Che sembra sia stata piena di emozioni. Le chiamo io. O voi magari le chiamate spallate. O qualcosa altro. Dici tu. Abbastanza combattuta. Abbastanza combattuta. Solo che a un certo punto. Tra i vari contatti. È partita via la saponetta qua. Non me ne sono accorta. Al momento in cui è partita. Me ne sono accorta. Le prime due destre successive. Sinceramente. Quando ho poggiato il ginocchio. La moto si è scomposta. Perché probabilmente ha frenato il ginocchio. Ero come se si fosse afflosciata la gomma. Sinceramente. E quindi ho finito la curva. Ero come se la mia gara fosse finita lì. Poi mi sono accorto che era solo la saponetta. Ho provato a ritirare. Però gli ultimi due giri. Sono riuscito anche a recuperare. Sono tornato terzo. Però senza la saponetta. È dura. Non è facile guidare così. Più di terzo lo sono riuscito a fare. Mi dispiace. Perché ho perso il campionato. Per una saponetta. Più che altro. Quella cosa lì ti ha fatto perdere la concentrazione. Ma più che concentrazione mi ha fatto proprio. All'inizio non capivo cosa fosse. Perché senza la saponetta. Quando puoci il ginocchio per terra. Si punta. E quindi mi ha quasi buttato per terra. Non mi era accorto. E poi ci ho messo un attimo a realizzare. Che era la saponetta. E non la moto a cui si era staccato. All'inizio pensavo addirittura. Che se fosse mollato qualcosa della pedana. Fosse andato a toccare sotto. E mi sollevava la moto. Poi da lì mi sono un po' riconcentrato. Sono riuscito a tornare terzo. Però mancava solo due giri. La gara era accorciata. A causa della prima bandiera rossa. E niente. Finita così. Peccato. Grazie comunque di averci reso partecipi degli eventi. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Alla prossima. Due parole per la parte finale. Andre Vitali. Campione. Dice. Un round non facile. Pista difficile. Mi sono allenato. Sono arrivato un po' con timore. Però l'esperienza in pista è stata tanta. Per fortuna il sabato al secondo turno. Ero performante. Dall'inpoio ho abbassato i tempi. Dice che dopo la prima partenza annullata per la caduta grave. C'era molta tensione. Lui è però contento. Per lui e per tutto lo staff. A chiudere. Bella bellissima gara. Ci siamo divertiti tantissimo. A questo punto che altro dire. Ragazzi io spero che ci possono far divertire anche l'anno prossimo. Ah direi. Ragazzi non mollateci. Iscrivetevi a questo Moto Estate perché è uno spettacolo. La 300 Supersport. Ciao Andrea. Alla prossima gara. Ciao ciao. Ciao.